Dal 7 aprile bisognerà risintonizzare i televisori in Puglia e Basilicata. Ci troverete sempre sul numero 99 del vostro telecomando. Foggia TV allargerà il suo raggio di copertura e grazie alla rete Railway raggiungerà gradatamente e capillarmente tutti i territori pugliesi e lucani. Parte una nuova sfida con rinnovato impegno e professionalità per entrare nelle vostre case e portare palinsesti sempre più ricchi e interessanti. Foggia TV, il nostro territorio, i suoi protagonisti.